In questo periodo, il gas ha toccato prezzi altissimi, e con l'arrivo dell'inverno, la spesa per ogni famiglia diventerà molto salata. Ebbene, quindi, imparare a consumare meno gas possibile, così da risparmiare qualche euro in bolletta. Ma prima di iniziare, lascia un like e iscriviti per supportare il canale. Ecco a voi 5 consigli per ridurre i consumi. 1. Spegnere la caldaia nelle ore notturne. Perché tenere accesa una caldaia quando resta inutilizzata? Spegnerla nelle ore notturne, riduce gli sprechi di energia e permette di risparmiare gas. 2. Preferire caldaie a condensazione. Questi apparecchi sono più tecnologici, e garantiscono un risparmio sulla bolletta che arriva a sfiorare anche il 20%. 3. Utilizzare le valvole termostatiche. Permettono di limitare e regolare il consumo dell'acqua calda presente nei caloriferi. Ciò fa abbassare del 15% le spese dell'impianto, portando un risparmio in bolletta. 4. Impostare una temperatura di casa fissa. 5. Mantenere la temperatura di casa costante, a 18 gradi. Evitando gli inutili e dannosi sbalzi termici, abbassando così la bolletta. 5. Fare attenzione in cucina. Anche la cucina è una grande fonte di consumo di gas. Ti basterà sistemare le padelle su fornelli adeguati al loro diametro. E spegnere il gas qualche istante prima di ultimare la cottura, per sfruttare il calore residuo. Spero che il video ti sia piaciuto. Se si lascia un like e condividilo con chi vuoi, e non dimenticarti di iscriverti.